Gesù, Maria e Giuseppe, accogliete la nostra preghiera per questi bambini non nati, involontariamente persi per malattia o volontariamente privati della vita per mezzo dell'amorto. Oggi negli ospedali pubblici moltissimi medici con la scusa dei motini di coscienza si rifiutano di praticare interruzioni di gravidanza. Vogliamo quindi che il nostro diritto all'aborto sia effettivo non soltanto sulla carta. Dunque questa è la prima nove ore nazionale di preghiera che si svolge a Bologna. Noi queste donne che abortiscono spesso subiscono delle pressioni e vengono prese in un periodo in cui sono particolarmente deboli della loro vita da parte di persone che fanno i loro interessi. Amiche che non sono riuscite ad avere figli e che non vogliono che lei abbia i figli. Possono essere i genitori che non vogliono fare i nonni. Non dico che una donna è una scema, però quando è stato di gravidanza il cervello non funziona più. Non è al di là della religione, non è ammissibile che uno Stato lasci il potere. È una persona che decide sulla vita di un altro. La sua posizione nei confronti di una donna che abortisce? La mia posizione è che ha commesso un delitto. Sono prostitute che vanno a battere, fanno senza preservativo, tanto poi ce la porto gratis, così guadagno anche di più. Io lavoro in ospedale, quindi le so queste cose, quindi non è che me ne invento. Ci sono donne che hanno un viaggio pagato per non spenarci la vacanza, oppure non è il momento perché non ho ancora la cameretta. Questa legge ha banalizzato il male. Oggi c'è la favolosa coalizione in piazza, chi siete? Siamo una rete di singole, di collettivi, di gruppi, femministi, transfeministi, gay, queer, trans. Vogliamo decidere noi di noi stesse, sempre e comunque, e perché vogliamo, come si dice bene, i preti fuori dalle nostre mutate. Orrore, orrore, mi fai vomitare, vicino a te, mi sento male, io ti odio, e te le testo, perché sei un tarpezzo. Siamo che i 994 siano solo la punta dell'iceberg, del problema, che in realtà consiste nella quotidiana negazione del diritto alla salute, del diritto all'autodeterminazione delle donne e delle soggettività LGBTQ. Legge la 194, che per la prima volta in Italia ha regolamentato l'aborto libero, sicuro e gratuito, è stato frutto di lotte, ma anche di un compromesso. Contiene un articolo, che è l'articolo 9, che dà la possibilità ai medici di fare obiezioni di coscienza. Questo sicuramente è una delle brecce della legge. È votato progressivamente questa legge dall'interno. Noi non vogliamo essere di qua, con i vostri vecchi vinti, non so di procivisti.